Se hai subito una sentenza di condanna in Italia e vuoi sapere come fare per scontare la pena in un altro Stato dell'Unione Europea, ti consiglio di guardare attentamente questo video nel quale ti spiego nel dettaglio come fare a richiedere che la pena possa essere eseguita in una misura alternativa alla detenzione in un altro Stato dell'Unione Europea. Innanzitutto devi sapere che con l'entrata in vigore in Italia del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 numero 38, l'Italia ha conformato il proprio ordinamento alle decisioni quadro numero 909 e 947 emesse dal Consiglio d'Europa nel 2008 ed è stata quindi riconosciuta la possibilità alle persone condannate in Italia di richiedere che la pena possa essere scontata in misura alternativa alla detenzione in uno Stato estero facente parte dell'Unione Europea. Nel caso in cui ti sia notificato un ordine di esecuzione sospeso per una sentenza di condanna applicata da un Tribunale italiano, è quindi possibile richiedere al Tribunale di sorveglianza l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione, come ad esempio l'affidamento in prova ai servizi sociali, è che questa misura venga eseguita direttamente in uno Stato estero. La principale ragione per la quale in precedenza si riteneva che non potesse essere concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali in uno Stato estero derivava dal fatto che nel momento in cui la persona si trovava all'estero, l'ufficio di esecuzione penale esterna, anche noto come UEPE, non avrebbe potuto effettuare alcun tipo di controllo sul condannato e quindi sul percorso di riabilitazione intrapreso dallo stesso nello Stato estero. In realtà questo orientamento è stato ormai ampiamente superato in considerazione del fatto che nel momento in cui viene riconosciuta una sentenza di condanna in uno Stato estero, l'esecuzione della condanna divene una materia di stretta ed esclusiva competenza dello Stato estero e quindi i controlli sull'esecuzione della pena non dovranno essere più effettuati dall'ufficio di esecuzione penale esterna, bensì dovranno essere effettuati direttamente dallo Stato estero. A questo punto quindi, appurato il fatto che possa essere richiesta l'esecuzione della pena all'estero, vediamo quindi qual è il procedimento che dovrà essere eseguito. Innanzitutto devi sapere che la richiesta di eseguire la condanna all'estero in misura alternativa alla detenzione potrà essere formulata sin dal primo momento e quindi sin dal momento in cui il Pubblico Ministero provvederà a notificarti un ordine di esecuzione per la condanna sospeso ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale. In questo caso quindi, prima ancora che la condanna sarà messa in esecuzione, ti viene concesso il termine di 30 giorni per richiedere al Tribunale di Sorveglianza l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione. Durante questo lasso di tempo quindi, potrai richiedere al Tribunale di Sorveglianza che la pena che ti è stata applicata possa essere eseguita il regime di affidamento in prova al servizio sociale in un altro Stato facente parte dell'Unione Europea. In questo caso quindi, il Tribunale di Sorveglianza dovrà decidere se la condanna che ti è stata applicata potrà essere scontata in regime alternativo alla detenzione e se la condanna potrà essere eseguita nello Stato estero in cui risiedi, ovvero nello Stato estero in cui hai deciso di eseguire la condanna. Devi sapere infatti che la richiesta potrà essere formulata anche se non hai la residenza anagrafica nello Stato estero, dovendo tuttavia giustificare quali sono le ragioni per le quali vuoi eseguire la condanna che ti è stata applicata dall'Italia in questo Stato. Il Pubblico Ministero quindi, una volta ricevuta la richiesta, provvede a trasmettere la sentenza di condanna all'autorità competente dello Stato estero in cui la persona condannata ha la residenza legale o abituale, essendo tuttavia la richiesta subordinata al consenso dello Stato estero nel caso in cui la persona non abbia la residenza o il domicilio nello Stato estero. Una volta che lo Stato estero è stato notiziato dal Pubblico Ministero e dal Ministero della Giustizia della tua volontà di eseguire la pena all'estero, questo Stato dovrà provvedere al riconoscimento della sentenza di condanna italiana. In questo caso, quindi, una volta riconosciuta la sentenza, l'esecuzione della stessa diventerà una materia di stretta ed esclusiva competenza di questo Stato, il quale potrà decidere autonomamente e senza quindi richiedere alcun tipo di autorizzazione all'Italia, le modalità di esecuzione della misura alternativa alla detenzione. Chiaramente, tu dovrai eseguire la misura alternativa alla detenzione secondo le specifiche modalità che ti verranno comunicate. Dal momento che, nel caso in cui siano posti in essere delle gravi violazioni della misura, oppure decidi volontariamente di sottrarti all'esecuzione della misura, l'Italia potrebbe riassumere la competenza sulla tua condanna e quindi sarai nuovamente costretto ad eseguire la sentenza di condanna in Italia. L'articolo 8 del Decreto Legislativo 30 del 2016 prevede la possibilità che l'Italia possa riassumere la competenza sull'esecuzione della pena nel caso in cui lo Stato estero comunichi la cessazione della propria competenza determinata dal fatto che 1. La persona condannata si è volontariamente sottratta all'esecuzione della pena. 2. La persona condannata non ha più la residenza o la dimora abituale in quello Stato. In questi casi, quindi, è opportuno che tu ti rivolga immediatamente ad un avvocato con specifica esperienza in questo settore al fine di evitare di perdere la possibilità di eseguire la pena in affidamento in prova ai servizi sociali in uno Stato estero nel quale vivi. Se questo video in tema di esecuzione delle misure alternative alla detenzione all'estero ti è piaciuto o in qualsiasi modo ti è stato utile, come sempre ti invito a mettere un mi piace ed a condividerlo, così che puoi anche aiutare altre persone che hanno questo stesso tipo di problema a poterlo risolvere. Ti lascio in ogni caso in descrizione il link della nostra pagina web nel quale ti spiego in maniera più approfondita l'argomento. Ti invito inoltre, come sempre, a seguire la nostra pagina web ed il nostro canale di YouTube se vuoi continuare a vedere tutti i nostri video. Grazie a tutti.